eccolo guarda! prendilo prendilo! ma se lo può mangiare secondo me oh ma venite a vedere cioè guarda venite a vedere l'attacco del racconto a Liguana io gli volevo andare in pane di Davo e Liguana mi sa che è andato e liguana mi sa che è bello che è andato caspita caspita